Beneghin serve bene Ferracini, poi dopo è Magnifico che controlla il pallone ed è la Scavolini che si protende all'attacco, massimo vantaggio, 8 punti per la squadra di casa, 4 nel primo tempo per la formazione, viceversa, ha segnato Kiccianovic per la formazione della Scavolini che adesso è a un solo punto. C'è rimessa laterale, vediamo se è così, è in effetti così, ecco Kiccianovic inquadrato in primo piano, è lui che effettua la rimessa laterale, la Scavolini è in attacco a un punto da recuperare, la incursione di Kiccianovic, Kiccianovic da quelle posizioni, non è tipo che il pallone, cassa regolare, Zampolini su Ferracini, occasione per giunta dal Billi, ecco pronto Kiccianovic, il cobra dell'attacco della Scavolini, vedete che lui che va a liberarsi per il tiro, non sbaglia il tiro, 3 punti di vantaggio Scavolini, quindi situazione rovesciata peggior pilli della stagione, almeno in attacco, ecco Kiccianovic, ecco Kiccianovic che si proietta, va a tirare, molto bravo, 5 punti di vantaggio per la Scavolini che peraltro ha 3 minuti e 39 secondi da giocare, l'attacco Scavolini, ecco ancora Kiccianovic, sempre molto insistita la sua azione, ma poi ecco l'affondo, l'affondo di Kiccianovic e il suo canestro immancabile, 72 a 71, gioca da solo, ma da solo, chi è in testa, tutto il Billi, per la squadra, il Billi c'è un...